Il fortino della villa comunale per una sera si è tinto di verde, viola e blu. Sono i colori che celebrano in Italia e nel mondo la giornata delle malattie rare, una ricorrenza che riaccende ogni anno i riflettori su una tematica sempre attuale e che ricorda l'importanza della lotta alle malattie rare in un periodo storico in cui la ricerca scientifica si è riscoperta fondamentale per la salute di ciascuno. L'amministrazione comunale di Trani ha voluto aderire all'iniziativa condivisa in tanti altri comuni italiani. La giornata delle malattie rare si celebra generalmente il 29 febbraio a sottolineare appunto la rarità della tematica in questione e quando l'anno non è bisestile come il 2021 la ricorrenza viene celebrata il 28 febbraio e così domenica sera il fortino con nuovi colori ha illuminato l'intero porto tranese sulla scia dello slogan scelto dalla Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia denominata Uniamo che invita ad accendere la luce su tali patologie e continuare la lotta alle malattie rare attraverso la ricerca. L'installazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Nevermind Studio e di light designers Aldo Ferrante e Gianluca Paradiso. In questo modo Trani ha contribuito alla campagna di sensibilizzazione una battaglia che spesso riguarda poche persone ma che in realtà dovrebbe interessare l'intera comunità.